Sono pronti a invadere le strade di Cagliari con allegria, voglia di stare insieme, sorridere, correre e soprattutto sostenere tanti progetti di solidarietà. Sono le 12.000 donne iscritte alla Cagliari Solo Woman Run, la Corsa Rosa Solidale, in programma domenica 5 marzo nel capoluogo isolano. Circa 8.500 di queste sono donne che fanno parte di associazioni e gruppi, le altre 3.500 sono singole iscritte. Le associazioni presenti sono in tutto 42. L'importante evento sportivo è stato presentato ufficialmente ieri a Cagliari dal sindaco Paolo Truzzo, l'assessore comunale Marina Adamo, il presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, Andrea Culeiddu di Gevensport, Alexia Leinardi, vicepresidente ASD Cagliari Atletica Leggera e Pietro Casu, presidente UISP, comitato territoriale di Cagliari APS. La formula della corsa è quella delle scorse edizioni, una camminata ludico motoria open aperta a tute di 4,5 km e una corsa competitiva challenge di circa 9 km. Il cuore pulsante della manifestazione sarà la fiera, dove è fissata sia la partenza che l'arrivo. La solidarietà sarà sempre in primo piano. Oltre a consentire a gruppi e associazioni di effettuare iniziative di crowdfunding in autonomia, attraverso le iscrizioni la Cagliari Solo Woman Run mette in paglio tre premi per sostenere economicamente altrettanti progetti di responsabilità sociale pensati per il territorio. Madrina dell'evento sarà la campionessa Dalia Cadari, velocista, specialista nei 200 metri e atleta dal 2019 delle Fiamme Oro.